Ciao a tutti rega, oggi siamo su un gioco particolare dove dobbiamo accudire questo piccoletto bambinetto che adesso lo prendo e lo lancio io Tutto bene? Spero di no, perché io ti... E mi hanno pagato poco l'ultima volta che ti ho badato Visto che si andava ai babysitter cosa facciamo, lo appoggiamo delicatamente Andiamo subito a nutrire questo bambinetto pazzerello Intanto si lancia via così, piccolino piccolino E va bene, seduto come si deve, guarda, così si devono mettere i bambini Seduti in quella posizione in modo orizzontale Su bello, 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 vieni qua Cosa hai fatto? Sei cacata addosso? Ah, quante sculaccioni Ok, eccolo qua Come hai fatto, piccoletto? Noi c'è qualcosa che non va Adesso devi finire L'ho appoggiato delicatamente Adesso guardiamo alla televisione Finalmente Ah, Maria, Maria Cosa... Vago, maghetto Ah, questa è una tecnica molto usata Per far addormentare i bambini Ok Cioè mi sa che ha un po' di freddo Oh, voilà Ovviamente il frigo è sempre pieno Perché sei andato qua? Scusa Ci inficcono il termosifone Oh, allora Quando da backflip Oh Messo a letto Come si deve È incastrato così non può più uscire Eccoci Oh Mi sa che il bambino ha un po' di fame Allora What? Mega frigo? Sto Pezzente Ma cosa succede qua? Le spore redattive Cosa cavolo sta succedendo? Oh Questo si caga Si caga sempre addosso Maria Scusa Non volevo offenderti L'unica soluzione È ucciderlo con questo Taismano Sto tremando Dall'idea Muori L'ho sconfitto per sempre Il bambino è satana È finito Molto bravo a fare le t-pose E questo era The Baby Spero che il video vi sia piaciuto Ce la cilliamo Io e il babies Ciao